Allora Claudio, io intanto do a te intanto, siccome sui social io lo so che tu non rispondi non partecipi, ma sicuramente vedi tu sei benissimo, è lo spezzone che ha messo Juventus l'altro giorno in cui puoi ripetere tu quale fosse il senso, puoi ripetere tu se puoi ripetere tutto alla fine, tu hai diritto di replica rispetto a un mila perché io non so cosa sta succedendo, ma ha scritto un mio amico che ha scritto che ti stanno scrivendo vergogna infame e ho detto cosa è successo No, allora, questo non lo so, qua non l'ho visto Giuliani così, no, allora il senso è questo ma sui social in questi giorni e su Twitter abbiamo messo questo video quello in cui tu dici, caro Pioli, vincilo tu lo scudetto con i 100 milioni nostri dacci i tuoi quattro centrocampisti che hai comprato e gioca tu allora con Nicoluzzi Caviglia la gente non ha apprezzato, molti, non la gente il riferimento a Nicoluzzi Caviglia preso come se fosse il capo espiatorio dice dovremmo amarli, dovremmo così devo dire che spesso poi lo dice gente che insulta l'allenatore il dirigente, cose così, quindi ti risulta un po' meno credibile ma è chiaro che... No, fammi capire, quindi io che sarei il leccaculo di tutti i giocatori della Juve, adesso passo per uno che insulta i giocatori della Juve Esatto, devo dire che tu sei passato in un attimo no, forse è quello che pur di difendere sai che in questa polarizzazione allenatore, quello che pur di difendere l'allenatore sei pronto a insultare i giocatori però posso dire ragazzi non cari nostri tifosi cari nostri perché siamo tutti tifosi ma voi avete dei problemi seri però a questo punto cioè io ho fatto un intervento in cui mi si chiedeva della affermazione di Pioli che diceva che noi dobbiamo vincere lo scudetto io sono andato in difesa della nostra squadra dicendo a Pioli che evidentemente con i 100 milioni della Champions che avevamo noi che invece sono andati a loro grazie a tutto quello che sappiamo ridammi i miei soldi e faccio io il mercato e ti entri Nicolussi Caviglia che ovviamente è il primo nome che mi è venuto in mente ma per dire, potevo dire McKennie potevo dire qualsiasi cosa non c'entra niente Nicolussi Caviglia il senso del messaggio mi sembrava abbastanza chiaro cioè caro Pioli e chiaro Milan grazie, tu hai fatto un mercato da 100 milioni grazie al fatto che la Juve è fuori dalla Champions e se la fai tu questo era il messaggio se i tifosi della Juve invece che prendersela con Chinesa la prendono con me che fa anche Rima ragazzi avete un problema veramente serio io ve lo dico Andrea Sarubi faccio fare anche a te un primo intervento se vuoi proprio su questa questione se avevi visto il video che in personale ti aveva fatto oppure c'è qua Claudio no, non l'avevo visto quindi non saprei che cosa aggiungere ok, no, però se lo possiamo due partite allo stadio se volete insomma perché io ero una vita che non andavo allora la Juve stava cominciando a funzionare poi tu Andrea hai deciso di andarla a vedere giusto a Reggio Emilia e a Juve Letta ho i parenti ho detto è il momento finalmente di rimettere piede allo stadio e devo dire che ho presenziato all'autorete di gatti e io non so quanti potranno raccontare i propri figli io c'ero io c'ero io c'ero e l'ho vista e lì insomma poi da lì è di pesa anche la partita con Lecce perché poi a quel punto mi sono impuntato e ho deciso ho detto vabbè allora sono proprio io che porto male oppure no quindi ho detto andiamo a provarlo definitivamente quindi sono a Torino per Juve Letta allora prima cosa che vorrei dire è questa io era una vita che non vedevo una partita allo stadio ed è una vita che vedo più o meno partite in televisione e sui social perché poi dopo c'è il terzo tempo sui social e guardando la partita allo stadio ti accorgi di una cosa di quanto purtroppo le partite in televisione e sui social siano le partite del dettaglio cioè una scena io la vedo mille volte da mille punti di vista e mi ci costruisco sopra una narrazione tipo la pesca dell'esse lunga cioè la faccio diventare lo specchio delle idee che ho in testa perché da un dettaglio io posso anche dire che l'Inter ha rubato la partita contro la Salernitana perché chi era a Cerbi non è stato espulso quando ha dato la manata in faccia che è una cosa ridicola dal mio punto di vista che l'Inter abbia rubato la partita della Salernitana ma se la racconto in quel modo la partita la posso raccontare così perché dal dettaglio vedo tutto il bello dell'Australio è che tu questi dettagli non li vedi e vedi l'insieme e allora a me quello che ha colpito del Sassuolo io non so manco cioè sì la papera di Cesni l'ho vista perché l'ha fatta proprio di fronte ai miei occhi ma per dire non sapevo neanche chi avesse segnato il gol nostro mi sembrava McKenny invece poi era mi pare un'autorete perché stava dall'altra parte tipo a 60 metri però vedi l'insieme e l'insieme che ho visto con il Sassuolo erano delle persone che sbagliavano costantemente la scelta di gioco ma sembrava una cosa fatta apposta cioè Chiesa per carità lo adoro e io vorrei che restasse alla Juve fino a 150 anni ma quando piglia e parte testa bassa e non si accorge che ce n'ha uno libero a destra e uno libero a sinistra dove potrebbe allargare il gioco tu lo prenderesti per un orecchio e diresti ah cretino ma la vuoi guardare un po' dall'alto stazione non solo lui mille mille persone cioè che sbagliano costantemente scelte di gioco chiamano in causa in continuazione Cesni che non ha esattamente i piedi di Neymar cioè tu dai una palla a Cesni e sai che comunque sia bene che vada dall'altro ma vada la perde medio che vada la rimbia in mezzo però Andrea ti faccio anche qua un dibattito poi ovviamente Claudio se vuole ritornare anche su quell'episodio o quello che vuole siamo qua per questo però Andrea lo dico anche a te come abbiamo detto prima Sabatini Sabatini tu stai parlando di giocatori singoli ma se noi da due anni e mezzo anzi devo dire forse anche prima vediamo una serie di passaggi all'indietro tu arrivi sulla tre quarti e io lo dico a alta voce guardando la partita dico secondo me più del cross siamo sulla tre quarti avversaria più del cross è probabile che la tocchi Cesni questa palla 3 su 5 la becco cioè il pallone torna da Cesni quando siamo sulla tre quarti ho capito che sono i giocatori che sbagliano le scelte e tutto ma allora cambiamo la psicologia interveniamo in un altro modo diamo loro un po' di autostima cioè cosa siamo? è una cosa ineluttabile questa non si potrà mai non è non è non è ineluttabile però c'è cioè un problema c'è intanto che sbagliano scelte di gioco ora chi di noi ha giocato un po' a pallone io io poco io poca roba fino agli allievi regionali o qualcosa del genere giocavo in mezzo al campo io penso che delle cavolate come certe che ho visto a livello di scelta di gioco poi l'errore tattico come l'errore tecnico come quello che abbiamo visto poco fa da da JB Zona di di fagioli che sbaglia quel passaggio là quello può capitare vabbè ok è sbagliato un passaggio però l'idea era buona allora io posso avere un'idea buona quello che non posso avere è una non idea o l'idea sbagliata perché lì vuol dire che sto nel posto sbagliato o io o l'allenatore o tutti e due insieme cioè non ci capiamo evidentemente o quelli che girano attorno a me perché non riescono a farsi capire io questo è il problema principale che ho visto col Sassuolo con Lecce ho visto invece la paura cioè con Lecce allora premesso che io come un cretino a differenza di Cesni a differenza di Gatti o forse pure Danilo non lo so pensavo che col Sassuolo con il 2-2 l'avremmo vinta loro hanno detto che no lì abbiamo esagerato un po' troppo forse dovevamo accontentarci del pareggio io ero convinto che quella l'avremmo vinta perché la partita si era messa un po' così quindi ho detto vabbè dai forse questa ce la facciamo ma premesso ciò io credo che abbiamo subito uno shock tale contro il Sassuolo che contro il Lecce Luca tu l'hai vista dalla televisione quella vero? sì perché tu stavi a Milano che non ci siamo incrociati sì ma lì io ho visto solo una squadra che è entrata in campo dicendo qui non si piglia gol allora oggi la prima cosa è che gol non ne pigliamo poi dai uno prima o poi esce e questa è stata la cosa e io lo stesso piano partita l'ho rivisto con l'Atalanta con la differenza che non c'è di fronte a Lecce ma c'è di fronte all'Atalanta e lì il gol prima o poi lo fai è più difficile perché quali possibilità c'hai avuto? c'hai avuto la punizione di Chiesa nel primo tempo che l'ha tirata da cane sulla barriera c'hai avuto l'occasione di Chiesa nel secondo tempo per il batti e ribatti tra i due difensori e non hai più visto una palla quindi lì non ne hai avute di possibilità però l'ideale era sempre andiamo lì e non pigliamo più gol perché? perché ti sei scottato con l'acqua calda e c'hai paura pure dell'acqua fredda questo è il mio piano partita non so se sono un sempliciotto però questo è quello che ho capito dallo stadio tutto chiaro tutto chiaro allora è tornato Luca Claudio volevi chiosare su qualcosa di più ragazzi Sarubbi ha fatto quattro minuti e mezzo mi pare non ha mai nominato Allegri chapeau però si è beccato però si è beccato per questo gli insulti di chi gli ha detto è sempre colpa dei giocatori allora tu ma ragazzi non se ne esce io vi garantisco che stanotte ho ricevuto tanti messaggi lo dico seriamente non di complimenti quindi posso dirlo perché mi hanno scritto troppo disfattismo ogni volta non si può fare un post partita di un'ora e mezzo in cui si piange che si vinca magari a fatica che si perda che si pareggia che si pareggia a Bergamo ogni volta è un pianto tale come dire allora non lo guardiamo più ripeto perché c'era Antonello e altri e oggi ripeto abbiamo gli altri che dicono vabbè ma allora era così basta veramente è insopportabile questa polarizzazione conviene solo a qualcuno che ci può guadagnare in qualche modo in termini di visibilità di qualcuno sicuramente non ha l'aiuto non ha il dibattito non ha il piacere di poter dire un'opinione senza venire distrutti dal seppelliti dalle opinioni tue Claudio poi continuiamo tutti insieme ci sono anche le pagellone di Mr. Gatta o sbaglio Luca? sì sì ci sono le pagellone però c'è Pigi che si è scatenato dai Pigi capite però Pigi ogni volta ci attacca Pigi è scatenato però c'è tutta gente di cuore della nostra chat gli uni e gli altri però calcolate Pigi vieni a 38 minuti lunedì prossimo però ricordate sempre che per un Pigi da una parte c'è un Pigi dall'altra sappiate che noi arrivano uguali Angelini presente c'abbiamo il massacro da una parte inviti Sandro Sabatini ce l'abbiamo dall'altra quindi sappiatelo per noi almeno ci cambia poco Claudio siccome prima ti abbiamo un po' stoppato magari tra leggendo messaggi o chiudendo c'è qualcos'altro che volevi dire per chi osare su quell'altro discorso no no ma non c'è no guarda non c'è problema io se posso essere un po' di se posso fungere eligible per gli sfoghi dei tifosi della Juve non c'è problema fate pure ma anche che problema ma magari magari Claudio la su quella cosa l'errore tra virgolette eccitarlo ma non c'è errore ma non c'è nessun errore ma se uno non vuol sentire e per partito preso deve prendere una posizione perché sta difendendo una religione ma non c'è discussione tranquilli ognuno può tranquillamente portare avanti quello che vuole cioè l'argomento era Pioli dice che la Juve deve iniziare lo scudetto la risposta mia è stata caro Pioli siccome 100 milioni per fare il mercato li prendi dalla nostra Champions perché il Minas spende quasi 160 milioni di cui 70 sono per tonali e gli altri sono i soldi della Champions che erano nostri o no? verissimo sì o no? questa era questa era difesa della Juve questa qua allora questa è la difesa della Juve dopodiché gli ho detto prenditi Nicolussi Caviglia e dacci milioni ma Nicolussi Caviglia a cui voglio molto bene tra l'altro è un esempio tanto per dire per dire prenditi quello che da noi non gioca mai non ha fatto neanche un minuto e ci dai 100 milioni per fare il mercato cioè se questo invece di essere un attacco da parte dei tifosi del Milan deve essere un attacco da parte dei tifosi del Milan ragazzi chiudiamo ci avete dei seri problemi e faccia bene fratelle allora ragazzi anche qua ovviamente poi ognuno libera opinione in libero stato nel rispetto abbiamo capito Giuliani bastava esprimersi meglio non tirare in ballo un ragazzo a caso dice che era un esempio tanto per fare comunque io in generale dico sempre se poi non nascono le shitstorm in cui in 200 guidati qua e là inizialmente poi si scatenano dicendo ovviamente diventa Juventibus così vabbè lo sapete come funziona se uno gli fa l'analisi dice a Claudio che tra l'altro è sui social è su YouTube lo seguite tantissimi lì e tutti sapete quanto poi difende la Juve a modo suo ragazzi ognuno ha il suo stile Giuliani è il suo io il mio Montblano è il suo Cati è il suo e Andrea è il suo quindi non è questo il tema però dico se qualcuno mi avesse fatto notare boh io non avrei messo Nicolussi Caviglia il ragazzo povero per me quella è un'analisi che ci può stare ovviamente poi vi risponderà lui la diventa la shitstorm di dire Giuliani distrugge se tu dici prenditi Vlaovic non ha senso Nicolussi Caviglia è il primo nome che ti viene in mente perché ha zero minuti è come dire prendi uno che qua non gioca e fa i soldi ragazzi ma se stiamo discutendo di sta cosa siamo messi molto male Figi dice Figi dice non difende la Juve difende Allegri però una cosa la devo dire quando lui dice la Juve che noi diciamo spesso non ha creato una rosa così e cos'ha ti dice non ha avuto gli 80 milioni per farlo devo dire che mi sembra uno scarico di responsabilità più nei confronti della società che nei confronti dell'allenatore cioè è come dire noi diciamo sempre che la rosa non è così Allegri in questa cosa non c'entra assolutamente niente niente bisogna essere intelligenti per capirlo voto la Juve di Bergamo Claudio voto la Juve di Bergamo 4 bravo 4 per colpa dei giocatori 4 come il quarto posto però anche qua ti ripeto noi continuiamo a fare trasmissioni su Allegri o non Allegri ragazzi ma se voi non capite se non vi è arrivato il messaggio che non Allegri ma il direttore tecnico della Juve Giuntoli giovedì su Repubblica dice le milanesi e il Napoli sono là la Juve deve combattere con le romane la Fiorentina e l'Atalanta per il quarto posto vuol dire che la mission è il quarto posto quindi in ottica mission quarto posto l'allenatore a Bergamo prestazione 4 secondo me però prende un punto che per il quarto posto è molto importante se gli avessero chiesto uno scudetto la prestazione di Bergamo il punto di Bergamo sarebbe molto preoccupante ma nella sua ottica e della società che gli ha chiesto il quarto posto invece è importante ma questo non è che io lo dico per difendere Allegri non me ne frega niente ve lo do come notizia perché la società quello gli ha chiesto poi potete discutere fare quello che volete ma se noi continuiamo a fare Allegri e Allegri out ragazzi andiamo avanti quest'anno e andiamo avanti anche l'anno prossimo facciamo ancora due anni così ogni partita? Allora facciamo così Andrea voto e poi ancora con Luca e Katia che alla fine siamo lì a dover ancora esplodere un po' nel dibattito anche tra noi Pagella e Mister Gatte e tanto altro Andrea chiedo anche a te il voto di Bergamo e poi faccio l'intervazione che ha fatto Luca prima la facciamo anche a voi che se a noi però è chiave ecco ora tolto il pregiudizio allenatore in generale è ok la rosa non è super Luca ha detto molto semplicemente ma la potrà spiegare meglio è vivente ha detto ci sono tante Juventus negli anni che hanno overperformato rispetto ai nuovi che potrebbe essere vai vai spieghi no no se no sembra che uno pensi che possa essere la norma quello che è successo il primo anno di Conte la Zoff è un bel esempio secondo me esatto o Zoff che vince due titoli diciamo con un calcio che in quel momento poteva essere apparentemente anche lì retro ma lo vince con una con una squadra che effettivamente se non avesse vinto nulla saremmo qua all'epoca saremmo stati a dire beh ma scusa ma Galia Bonetti vi state evangelizzando quello che voglio dire no no ma Mombly scusa Mombly ma questo non vuol dire che non si possa fare è vero non vuol dire che non si possa fare questo non vuol dire che non si possa fare io sto rispondendo a quelli che dicono delle cose io gli sto dando una notizia non un'opinione una notizia la proprietà barra società ha detto ad Allegri che deve arrivare quarto cioè qualificarsi per le cose però Claudio questo non vuol dire che non puoi vincere il campionato ma la missione è quella dimmi questo dimmi questo cioè su questo benissimo ma vuol dire che sia chiaro a tutti non possiamo permetterci di non arrivare nelle quattro che è una banalità dirlo ma è meglio ribadirlo perché spiegatemi quale è ti quale altro obiettivo si poteva dare è l'unico possibile no te lo sto dicendo ma non è un obiettivo non è un obiettivo per rialzo 0 a 0 di Bergamo che a me non è piaciuto mi sono addormentato vedere la partita però nell'ottica di quattro sberle a Sassuolo fatico a rimettermi in corsa con il Lecce vado a Bergamo se ti dicono che devi arrivare quarto il punto con una strategia per ottenerlo ha un senso se ti dicono che devi vincere lo scudetto il punto con la strategia per ottenerlo ha dei problemi però scusate con questo atteggiamento senza questa mentalità rischia neanche di rientrare nelle quattro poi da giocare con l'Atalanta Fiorentina eccetera eccetera perché siamo onesti ma ieri secondo te noi non arriviamo nelle quattro andiamo dietro le Romane e la Fiorentina ha provato a fare qualcosina di più era così ingiocabile l'Atalanta ieri a me non è sembrato anche l'Atalanta giocava senza attaccare mi è sembrato perché difensivamente l'abbiamo gioca così sterile nei primi venti minuti dove la Juve era completamente passiva e remissiva questo atteggiamento secondo me anche il quarto posto lo devi veramente sudare l'atteggiamento di ieri che ha reso l'Atalanta nulla è proprio quello difensivo se tu avessi giocato all'attacco avresti rischiato forse il contenere ma non partecipare nemmeno alla partita io la vedo alla fine ragazzi tre tiri in porta della Juve dell'Atalanta beh per gli ultimi venti minuti Cesni fa un miracolo due litri ragazzi due tiri ragazzi ma il presupposto è la partita insoddisfacente noiosa e brutta e su questo siamo tutti d'accordo poi siccome quando vado a Sassuolo e prendo quattro peri mi sento dire nei titoli la Juve non ha mai tirato in porta tiri della Juve 12 ieri tiri della l'Atalanta 15 nello specchio 2 tiri della Juve 5 nello specchio 3 sì sì però a me mi dice poco questo a me dice poco io so che gli ultimi minuti mi pregavo e finisse la partita deve dire che la partita è stata difensiva per portare il piano partita mi sembra evidente cerchiamo di bloccarla e poi magari di usare il contropiede che non è riuscito la partita è insoddisfacente il punto è utile per stare nelle prime quattro in trasferta contro una diretta concorrente se noi pensiamo di vincere lo scudetto abbiamo sbagliato anno ma te lo dice uno che vuole sempre vincere lo scudetto e spera sempre di vincere lo scudetto ma siccome i messaggi della proprietà società sono altri no però il messaggio non è non vincere il mercato è altro no ma io credo che il tema sia ancora un altro cioè per esempio noi ci affidiamo giustamente a quello che vediamo nel rettangolo di gioco e che poi ognuno di noi è passibile di un metro di un metro di giudizio postumo differente e secondo me ottimo così poi c'è il tema anche di cosa di cosa viene promesso o in qualche modo delineato ok ancora giuntoli ancora giuntoli pochi giorni fa dice l'espressione di questa squadra che ovviamente è una squadra che non ha più determinate cose ma ne prova ad avere altre sarà di questo tipo e lo stesso messaggio lo dà Allegri alla fine di Udinese Juventus e lo dà dicendo secondo tempo non è il nostro pattern no difeso con blocco basso perché non possiamo permetterci a quest'anno se no rischiamo di perdere troppe partite e abbiamo rischiato a Bergamo giuntoli dice Saran Juve che deve fare dell'intensità della capacità di andare di lavorare di gruppo in avanti e però queste cose Claudio oggi oggi Sassuolo incluso in avanti non si vedono la squadra ha perso ha perso l'idea di poter fare quella cosa lì questo mi spaventa poi io so che Allegri probabilmente il suo il suo livello ottimale di punti lo ottiene facendo più le partita di Bergamo che quella di Udine ok io lo so però allora non poniamola come promessa non mettiamocela davanti agli occhi perché poi il tifoso arriva e dice scusate però ci stiamo evolvendo no stiamo facendo le cose dell'anno scorso stiamo crediamo di poter attaccare anche in 5-6 no perché attacchiamo in 2 e allora e allora c'è una discrasia che ci spaventa Luca sono d'accordo da questa scuola se Allegri dice passiamo sempre la palla indietro ho capito vuol dire che non gli va bene in avanti non si spaventa questa palla si ma non c'è mezzo strumento e dice passiamo troppo la palla indietro vuol dire che non gli chiede di passare la palla indietro che non è contento ragazzi ma per come ragazzi ma per come si muove la Juve oggi è impossibile passarla avanti l'unica cosa è passarla avanti e fare un lancio di 60 metri e l'abbiamo visto decidiamoci esatto però Claudio anche qui anche qui Allegri mettiamolo se Allegri già l'anno scorso lamentava i microfoni che la squadra fa il contrario di quello che lui dice perché lui ha detto questo l'anno scorso i microfoni e quest'anno fosse di nuovo così e beh allora di nuovo dobbiamo porcelo il tema Allegri perché lui non può dire la squadra fa il contrario di quello che dico io senza pensare ho capito quindi io credo io faccio una domanda per me se la squadra dà la palla indietro è perché Allegri dice di passarla indietro è inutile che lui si nasconda la squadra ragazzi mi raccomando la squadra non fa il contrario di quello che dice Allegri non ha la personalità per fare il contrario di quello che dice quindi Allegri chiede alla squadra di passare la palla indietro di giocare in sicurezza ok cioè gli dice non diciamo nessuna partita passiamola sempre indietro quindi con la Lazio avrà allenato Magnanelli immagino l'altra parte l'ha giunta tu no però le ultime due quindi con la Lazio ha allenato Magnanelli Audine Padoina Empoli che ha allenato no 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 c'è un cambio di paradigma che è già successo ma non puoi essere così e dire che Allegri chiede di passare la palla indietro ma dai su ma fai il bravo dai in serio ma certo ma è evidente ma come certo ma non c'è nulla di male Allegri dice ragazzi passiamo sempre la palla indietro che vuol dire non vinciamo una partita questo dice Allegri no questo l'ha aggiunto tu e se passi sempre la palla indietro come fai che c'è le partite ma ragazzi ma non proviamo mai una giocata rischiosa perché perché l'allenatore non lo vuole ma se l'allenatore chiede di passare la palla indietro quando l'allenatore vede che la squadra è in pericolo psicologico chiede di giocare in sicurezza tant'è che Sassuolo rappresenta uno spartiacque perché l'allenatore glielo chiede se l'allenatore chiede qualsiasi allenatore chiede ai suoi di passare la palla indietro è impossibile vincere la palla la Juve oggi Allegri è più sicuro a dire giocate sul sicuro e giocare sul sicuro non vinciamo le partite no scusate questa provocazione ho giunto io ma se la palla indietro come vai io devo giocare sul sicuro ho la gioco di fianco ma il compagno mi si deve muovere se no è schermato se no la devo dare indietro giocare sul sicuro che non vuol dire buttatela in porta no però vuol dire non buttatela avanti quindi se non la butti avanti è impossibile segnare scusate posso tradurre quello che stai dicendo perché non stai dicendo cose diverse solo che solo che no solo che Claudio sai che tu fai finta di non capire quello che dice Luca allora prova a rispiegartelo in un altro modo no ma io dico perché sono ignorante quando Allegri si spaventa vede la squadra spaventata fa questo ma l'ha sempre fatto anche nelle grandi Juve fermati Luca scusami perché in un momento lui da bordo inquadrato dalle telecamere urla avanti 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 spiegami a chi? a Gatti? dove vai? mi dice così? a tutti salite avanti e basta guardare le partite va bene una volta avanti un po' indietro un po' avanti un po' calma un po' indietro non c'è mai un frame in cui Allegri dice un po' indietro tutte le volte che la squadra indietreggia c'è l'immagine da bordo campo se vuoi te le mando che dice avanti salite ok quindi la squadra non segue l'allenatore ma non è che la squadra non segue l'allenatore è che se noi se noi dai e urla come tutti gli allenatori delle indicazioni la squadra probabilmente non è 5 di difesa probabilmente Mekenni Fagioli Omiretti Locatelli Rabiot e Cambiasso sono un centrocampo che è pressato dagli altri tipo Atalanta non è in grado magari in una partita con Lazio la preparo la partita sul pressing avversario la preparo se in possesso palla possesso palla ascesni io i miei 5 uomini di difesa perché noi difendiamo a 5 più 1 che non c'è nulla di male se funziona godo tantissimo 5 più 1 non c'è uno che è super la linea di 50 metri credo che il primo sia stato a parte Gatti al primo minuto impazzito giustamente la tua direzione spesso sia stato Danilo intorno al 60 non lo facciamo ma già con Lecce non l'abbiamo più fatto perché perché adesso il paradigma è momentaneamente cambiato non è un'offesa a Zuliani non è un'offesa a nessuno però è così evidente lo sai che noi abbiamo baricentrato quest'anno leggi dati io parlo di partecipazione alla manovra attaccare con più di tre uomini hai detto che siamo dietro la metà campo il baricentro è oltre quest'anno a parte la partita di Bergamo che è 48-4 ragazzi ma cambiato con Lecce non ha superato la metà campo non abbiamo superato la metà campo cambiato con Lecce non ha mai fatto una sovrapposizione e ha sofferto lì non ha fatto una con Chiesa non abbiamo subito un tiro e un po' abbiamo fatto i tre abbiamo vinto malamente 1-0 ma non abbiamo mai passato la metà campo ma il problema non sto dicendo che sia vincere o perdere sto dicendo che il paradigma è cambiato con Reggio Emilia se porta punti va benissimo l'anno scorso quando cambiamo il paradigma facciamo otto vittorie a fila non sto giudicando il risultato non sto dicendo questa cosa ci farà andare addosso un camion di letame sto dicendo che c'è un cambio evidente questa cosa di nuovo un po' spaventa i tifosi perché è una Juve che tira il freno a mano speriamo funzioni posso? posso? allora scusate sto godendo come un pazzo io ragazzi me lo sto veramente godendo no no ma va bene ma ragazzi ma ragazzi ma cambiate l'allenatore se il problema è sempre l'allenatore cambiate l'allenatore e prendetene uno che dice tutti avanti tutti in pressing poi se i risultati non si vengono evidentemente saranno tutti contenti io cosa vi devo dire ma cambiatelo guardate che a me non mi viene in tasca niente che ci sia Allegri un altro io ho difeso pure Sarri l'hanno anche venuto non c'è mica insomma no lo dico a tutti quelli che dicono che io devo difendere Allegri io non difendo Allegri io sto alla parte dell'allenatore dei giocatori della Juve Nicolussi Caviglia compreso poi adesso è diventato anche il contrario ragazzi a me sembra che stiamo tutti veramente impazzendo stiamo tutti veramente impazzendo non so non so se stiamo impazzendo per colpa di chi come direbbe Zucchero così faccio contento anche Sarubbi è un po' mia moglie anche se non mi ascolta noi stiamo impazzendo per che cosa? perché siamo terzi in classifica l'anno scorso siamo arrivati terzi? noi stiamo impazzendo per questo dopo nove scudetti consecutivi no perché c'è gente che non è impazzita ha detto che era tutto meraviglioso quando arrivava la dodicesima ma noi cosa siamo a diventarsi? scusa un attimo cos'è sta quella di religione continua ogni partita? e non è solo a legge perché era anche Sarri era anche Pirlo ma qui era anche al primo scudetto la finale di Coppa Italia persa Napoli perché io ce l'ho e me lo ricordo tu forse ti stai non ho capito il soggetto o l'oggetto della tua cosa ma qui qui dentro in questo momento non c'è nessuna guerra di religione nessuna proprio nessuna nessuna fuori magari la chat la sto leggendo i social ma qui no ma io non sto dicendo a te ma guarda scusami Luca ha detto proprio un'altra cosa Luca ha detto proprio un'altra cosa Luca ha detto Allegrile 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 Luca ha detto che con Sassuolo è cambiato qualcosa nella Juve con Sassuolo si sono perse delle sicurezze e sono arrivate delle paure questo ha detto quindi quel tipo di gioco che abbiamo visto in altre partite si cercano le sicurezze si cercano le sicurezze evidentemente lui ha detto un'altra cosa ha detto che Allegrile ha detto che siccome è successo questo allora adesso la squadra che è molto più bloccata forse molto più paurosa molto più protetta mettiamola così adesso cerca questi schemi che schemi non sono cioè il passaggio all'indietro e fai girare la palla tu dici il baricentro ce l'abbiamo alto vuole pure 48 metri ma se tu a 48 metri ti passi la palla su e giù ma 48 è basso infatti la 40 è basso non fa niente ma pure 52 è uguale cioè se tu passi che sta sulla linea di centrocampo ma se Gatti che sta nella linea di centrocampo la passa a Bremer che sta due metri più dietro che la passa a Danilo che sta due metri più avanti sempre sulla linea di centrocampo rimani e dentro non ci vai perché non induca mai nessuno se Pagioli ha paura e si gira e non guarda ma Sarub ma forse non mi hai ascoltato neanche tu ti ho detto voto la prestazione 4 di Bergamo ok allora però quello che ti ha detto Luca è che se c'è Luca ha detto che l'allenatore dice ai giocatori di passarla all'indietro che è una bestemmia non esiste dice di andare in avanti dice di andare in avanti guardate le partite i giocatori in questo momento non sono in grado di farlo dopo Sassuolo e quindi con il Lecce è venuta a casa una vittoria risicata che è una vittoria e a Bergamo il piano partita evidente a tutti era cerchiamo di contenere l'Atalanta e speriamo in un contropiede che a me non è piaciuto questo era il piano partita lui dice che l'allenatore dice ai giocatori di passarla all'indietro ma non è vero questa è un'altra roba non c'entra niente col piano partita o degli ultimi due risultati l'allenatore non ha mai detto ai giocatori di passarla all'indietro l'allenatore è lo stesso che fa il 4-2-3-1 quando ha Iguain Manzukic Di Bale è quadrato in forma è più giovane ed è lo stesso che quando va a Bergamo contro l'Atalanta senza i centravanti boa e con un centrocampo formato da con tutto il rispetto e il volergli bene a cambiasso fagioli barra Miretti primo cambio Locatelli regista che non è Rabiot fuori forma e McKennie dice facciamo un piano partita più contenitivo e vediamo se in contropiede riusciamo questo è ma non dite passate l'all'indietro non facciamo la partita vorrei nelle traduzioni nelle varie interpretazioni che possono essere fatte le mie parole posso dire di non aver detto nulla di sconveniente nei confronti di Allegri ma che la scelta in questo momento è di andare a operare tatticamente in un modo diverso che a livello di punti finora ha funzionato quattro punti Lecce-Atalanta secondo me sono anche una buona come dire exit strategy da quello che è successo in Reggio Emilia però però ancora la squadra l'effetto che ha è che davanti se già avevamo qualche problema prima adesso potrebbe produrre meno e l'ha detto Allegri dopo gara ha detto siamo stati molto molto deludenti nel costruire perché io dico di passare all'indietro immagini ragazzi dietro ascesi non puoi passarla tant'è che ha fatto 40 rilancia la conseguenza del giocare sul sicuro è quello perché mentre si vuole declinare quello che io ho detto come un attacco ad Allegri è una osservazione specchio di ciò che si è visto nelle ultime due partite soprattutto l'ultima finito quindi se questo porta punti in questo momento benvenga perché ci serve ma va benissimo quindi il problema della Juventus e dei suoi tifosi in questo momento è discutere ogni partita dell'allenatore il resto non ce ne frega niente l'importante è essere contro l'allenatore va bene io non lo sono mai stato né con lui né con Sarri né con Conte né con nessuno ma però ragazzi dobbiamo metterci la contro ogni ospite che arriva dice non bisogna parlare di Allegri e non esiste una frase dove non ci sia Allegri come soggetto calma io non ho nominato Allegri facciamo un altro tema io ho fatto 45 minuti di analisi della partita poco fa con mister Zenzola ma Luca scusa Luca abbiamo parlato dei giocatori ma Luca ma abbi pazienza dai ci conosciamo da 50 anni fai il bravo veramente abbi pazienza io sono intervenuto perché un amico mi scrive ti stanno insultando a Juventus continui Luca fermati fai molto bravo stai zitto adesso no stai zitto stai zitto io ti ascolto perché ti ascolto sempre volentieri stai fermo stai fermo io sono intervenuto perché mi hanno scritto da casa ti stanno insultando a Juventus stai fermo non mi intervenivo ho altro da fare oggi ho dalla donna anch'io sono intervenuto perché mi arriva un messaggio da casa a un mio amico ti stanno insultando a Juventus ok quindi io intervengo Massimo mi dice ti stanno attaccando per il discorso di Pioli eccetera benissimo di social mi stanno attaccando fammi finire mi stanno attaccando perché io ho preso le difese della Juventus nei confronti di Pioli che ci diceva vincete voi lo scudetto siete i favoriti ma io ho già parlato di Pioli caro Pioli ridammi i 100 milioni che sono miei perché ero io terzo in Champions se non tu e poi vediamo sai perché mi attaccano su quella roba lì? perché qualcuno anzi molti da quello che capisco dicono pur di difendere Allegri ma cosa c'entra Allegri? sì ma io capisci che abbiamo un grosso problema prima che tu entrassi ho dato la mia versione che prende la Champions che non abbiamo fatto noi cosa c'entra Allegri? o no? bene fatta la precisazione? fatta la precisazione il nostro mono intervento il nostro monotema è Allegri non esiste nient'altro in questa squadra Allegri allora io dico io dico cambiate allenatore così la spero che la smettiamo io sinceramente faccio faccio fatica a spiegarmi probabilmente mi riascolterò e migliorerò ma non è vero Luca cioè poi veramente chi ha sentito Gevizona un attimo fa di tutto ha sentito parlare tranne che soltanto di problemi di scelta dell'allenatore insomma quindi i giocatori hanno le loro colpe io stesso ho detto che pur amando Chiesa pur amando Chiesa l'ho visto sbagliare passaggi una marea di volte scelte di gioco una marea di volte poi un'altra cosa che non capisco è l'odio per Locatelli che invece a me sembra abbiamo le pagelle abbiamo le pagelle Luca Andrea ti si sente un po' male però c'è un piccolo ritorno fastidioso che credo venga a te no no non è un grandanno ma comunque pazienza aspetta che provo a uscire e rientrare va bene va bene ormai è un casino ragazzi ci siamo calmati calmiamoci un attimo calmiamoci un secondo ma io sono tranquillissimo con Luca facciamo una discussione una discussione filosofica sui modi di dire avanti e indietro ma la base è un'altra la voglio annegare che la base è che c'è un movimento su Allegri che prende il 100% delle discussioni delle partite della Juve cioè non c'è nient'altro c'è Allegri allora io dico cambiamolo così la sospettiamo parliamo d'altro povera Katia povera Katia Katia ma com'è tipo cv cv è così oppure più incasinato com'è rispetto a ma per sapere ma lo so non vado da da un po' di tempo in realtà però ti è abbastanza incasinato esatto qual com'è qual com'è però lì vabbè lì si fa scena secondo me qui non lo so a un certo punto ho visto che mi piace questa cosa ma no io ho goduto io oggi so goduto ragazzi se non si discute vuol dire che siamo piatti e non abbiamo voglio dire la voglia di discutere abbiamo una voglia matta di discutere ragazzi però ripeto ripeto ragazzi noi è due anni che ogni partita parliamo di Allegri però sai cosa non capisco perché si fa veramente fatica anche quando si analizza anche quando si vuole analizzare una partita a non mettersi da una parte o dall'altra cioè o con Allegri o contro Allegri perché bisogna stare in queste fazioni cioè una non può andare a fare una di stamina senza essere senza appartenere da nessuno cioè né Allegri in né Allegri out cioè io quando faccio le mie di stamina le faccio a prescindere dall'allenatore cioè nel senso non c'è una fazione vuoi l'esempio non vuoi l'esempio allora io ieri finita la partita nel mio classico video di commento la prima cosa che dico è che mi sono quasi addormentato commento vergognati tu e il tuo amico ma infatti secondo me però io vi devo dire una cosa infatti secondo me tutto questo premesso mi fa godere questa discussione veramente mi sto godendo questa puntata come raramente in vita mia quindi premesso tutto questo e continuerei a vita con tutto questo e però secondo me di fondo la cosa su cui ragione Claudio poi secondo me la porta nel posto sbagliato perché sa che qua noi non c'è frega niente un giorno difendiamo uno un giorno l'altro però di base c'è questa lo dico sempre questa polarizzazione che se Claudio ora è stato veramente viene insultato perché fa quel discorso là che nasce come difesa della Juve poi uno può apprezzarlo sì no detto bene detto male ma equivocarne il senso era complicato poi uno può dire spiegati meglio fai come a tutti noi però equivocarne il senso e stravolgerlo per me è un segnale della polarizzazione cioè non si vede l'ora di andare contro Claudio Zuliani che cosa è il filo societario l'amico di Allegri io posso dire nel mio piccolissimo a me capita che c'è un fake tragico su Twitter che peraltro scrive da mezzo un alfabeta cose che io quello mi offende cose quasi offensive verso le altre squadre l'Inter il cartone cose sono un po' più raffinato di tutto questo e pesca interisti e compagnia che dicono Zampini ridicolo non hai capito che non so cosa ma anche i Juventini che non vedono l'ora di dire ma guardate Zampini aveva creduto a un account fake della gazzetta non capendo il cretino era lui che pensava che fossi io ma c'è questa voglia in generale di smerdare il fratello chiamiamoci così Juventino perché perché è filo societario perché è pro allegri o al contrario è magari quello perché e questa ragazzi questo quello che dice Claudio non è discutibile cioè che ci sia una guerra e religione all'interno del tipo Juventino quantomeno sui social che non permetta più un dibattito l'abbiamo detto prima che entrasse Claudio questo è sicuro tanto che perfino Sandro Sabatini entra qua e ci risponde Luca ha ragione su questo cioè Luca ha detto guarda che il discorso allegri lo porti tu perché ma io lo capisco perché perché Sabatini dal momento in cui lo annunciamo anche noi in diretta ci abbiamo venti messaggi di persone che dicono ecco l'amico del Livornese ecco l'amico cioè ormai non esiste più la discussione libera e serena ieri abbiamo giocato da quattro ieri da otto senza essere Massimo Massimo perdonami no scusa perché poi io mi inferno no mi iscrivono da casa che ho detto a Monblano stai zitto va bene scusa accolte no no nel senso che non mi sono neanche reso conto si dibatte si dibatte vai tranquillo potevi dirmi di peggio no no perché io poi ho i miei amici fidati che mi scrivono guarda che gli hai detto bravi no no ma tra noi cinque qua so che nessuno se la prende su nulla per questo godo se fosse un nuovo ospite dire oddio che tensione tra noi bravo Claudio scrivono in tanti no 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 però Giuliani Zampini contro Follo che sono interessi a nessuno parliamo di calcio no perché non è questo è che il nostro dibattito è che dopo interesse vuole il sangue la verità è che la gente vuole il sangue la gente non è più no la gente vuole responsabili al momento individuato solamente è il sangue è il sangue ma posso dire una cosa a Katia tra l'altro così vi faccio incazzare guarda ancora di più guarda che è da allegri capito? che se voi pensate di farlo arrabbiare o di mandargli insieme no no ma quello secondo me è chiaro è proprio cazzeggio creativo all'ennesima potenza come lo chiamate voi il livornese quindi proprio degli insulti quando ha detto Lugani ha preso 8 anni di insulti vi ha fatto capire facciamo così Luca ce le mandi ce le fai mandare dal nostro super regista parliamo così come se fossimo veramente un canale cazzuto le vediamo le pagelle di Mr.Gatta e le leggiamo a chi non le vede qui su streamer dai nostri protagonisti tanto è solo voto senza e noi lo commentiamo e noi lo commentiamo Mr.Gatta che oggi ha dato buca ha detto però vi mando le mie pagelle sono infuriato con un paio e ho il mio migliore in campo ha detto però vediamo se se siamo d'accordo Luca dimmi tu o come procedere partiamo da Scesni 6 e mezzo qui qui resta la parata su Muriel ovviamente 6 e mezzo la capolata di dopo perché fa una gran paratona però poi rischia di fare un mezzo guaio quindi se no quanto prende Katia Scesni conta più il possibile errore del gol o il miracolo pensavo che mi chiedesse quanto prende di stipendio siamo dei signori secondo me 6 e mezzo ci sta ci sta sono concordo concordo con Mr.Gatta 6 e mezzo Claudio si e poi l'ho visto nuovamente presente a se stesso che non è poco dopo Claudio voto voto a Scesni 6 e mezzo salva la partita alla fine quanto l'hanno criticato Scesni dopo Sassuolo giustamente Claudio o troppo troppo no l'hanno criticato per le papere però come sempre poi uno magari la partita dopo ti risolve cioè come gatti ma ripeto ma ci sta ragazzi ma ci sta poi dopo la partita dopo prendi 7 ma quello ci sta va bene è la presa di posizione di religione a prescindere che lascia perplesso non lo so oh ma forse ragazzi forse non io ho sbagliato e io vi dico la verità forse non io che sono andata a una certa età sono sbagliato però io vedere cioè io come Massimo come tutti noi no a parte Katia che giustamente è giovane beata lei ma come tutti noi che abbiamo vissuto in trincea il 2006 io tutte le volte guardo la data dico dove ero dove ero ah ero fuori dall'ospedale con la gente che si fingeva malata per vedere una partita di serie B della Juve quindi mi tiro un po' su e dico allora dai tanto male non sta andando e invece vedo che c'è della gente perché siccome appunto è infervorata con l'allenatore qualsiasi cosa cioè voi cosa vi aspettate posso fare una domanda voi cosa vi aspettate da questa stagione da questa squadra allora io l'ho detto io l'ho detto scusami lo dico perché magari prima non è ricollegato l'ho detto anche ieri a Presti ci siamo anche scambiati un paio di messaggi su alcuni su alcuni contenuti anche di ieri ma io mi aspetto la luce io sono è un anno è un anno che quando io vedo cioè mi è capitato due volte in vita mia di poter fare una domanda allegri io chiedo sempre metto credo sempre la seconda volta sicuro forse anche la prima la parola luce cioè io dico secondo me ma questo è un discorso che faccio nella vita anche nei momenti difficili o quando non sei a mille così bisogna sempre non bisogna mai perdere un obiettivo che ti dia uno stimolo un brivido una cosa per dire mi riprenderò e sarò lì può essere tutto può essere un viaggio come un'amicizia come un nel calcio è la luce allora io quello che dico io è se ci si dice soldi non ce ne sono servirà a perdere ma davvero non ci sono soldi esatto esatto Katia sì non ci sono soldi stavolta non ci sono proprio non abbiamo che ve lo dico allora secondo me secondo me dico se la squadra è così ci si dice quarto posto come cosa vedo la squadra in campo e io personalmente dal sessantesimo comincio la guardavo con la famiglia mi chiedevano firmeresti ora per stare al novantesimo eravamo tipo a settantesimo firmeresti per stare al novantesimo sullo 0-0 io ho detto sì poi io sono un cacasotto quello che volete troppo prudente così ma il punto è che io non vedevo l'ora che finisse questa partita e allora io dico spiegatemi lo chiedo al mister quando iniziano abbiamo visto qualcosa di diverso e diceva questa qua è una squadra più dinamica correrà di più magari ha meno esperienza meno tecnica ma correrà di più immagino una squadra che poi chiude spazi fa pressa alta non lo so ma non per 90 minuti ovviamente se poi pian piano poi come dice Luca hai visto le quattro pere di Sassuolo e allora per uscire dalle quattro per uscire dalle quattro pere di Sassuolo devi tamponare però allora la luce è solo fare 76 punti sperare pregare e farli arrivare tra le quattro e poi boh vediamo che mi diranno no perché io vedo l'amministratore delegato che ci ha spiegato che saranno tempi duri il direttore sportivo l'allenatore ogni giorno ci viene detto quarti in campo in campo il proprietario in campo vedo e questo mi va bene non promettere lo scudetto questo sta causando però dirci ragazzi attenzione che se poi X che se poi indoviniamo il modo per chiudere che se poi non lo so cosa c'è un modulo in mente vediamo più avanti siamo pronti che magari non lo so io so che questo è il massimo che posso fare cioè partita difficile fuori punto a sfangarla partita facile dentro punto a segnare e poi vince la benissimo è una buona media punti sono 76 punti in campionato 38 per 2 è la media inglese la mitica media inglese bella ci sarà un super commento di zampini di due ore esatto così no dico là quando tu no ho risposto a Claudio e Claudio ha fatto la domanda giusta dice voi cosa vi aspettate esatto ma ditemi scuola ditemi il posto però dicono anche voi voi cosa vi aspettate io ci chiamavo di io volevo parlare di scelta no no arrivare tra le quattro tra le quattro ma voglio un po' di luce e privi di in più allora io ti dico come la pensa la Juve in questo momento secondo me pensa che che noi dobbiamo arrivare tra le prime quattro e che se arriviamo tra le prime quattro abbiamo 40% ad arrivare terzi quarti 30 ad arrivare terzi 20 secondi e 10 primi cioè la Juve come la vede quest'anno dice non è che proprio è proibito lo scudetto però abbiamo una possibilità di vincere lo scudetto abbiamo molte più possibilità di arrivare quarti e probabilmente anche terzi quindi secondo me la Juve si vede quest'anno tra il quarto e il terzo posto non dice che nega lo scudetto perché sennò sarebbe darsi la mazzata sui piedi però quello che dicono sempre in questo momento è la differenza tra obiettivi e desideri ci può piacere non ci può piacere è uguale cioè questo è quello che pensa la società e Amen quindi ce ne faremo una ragione possiamo parlare di Cessni o no? mica faremo due ore su ogni giocatore no 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 ieri appunto sei e mezzo che è la metà tra l'otto del palatone e il cinque della mezza papera in generale penso che un portiere a differenza di altri ruoli si possa giudicare molto bene alla fine dell'anno se i punti te li ha tolti o te li ha dati perché un attaccante è più complicato un centrocampista ancora di più ma un portiere si vede chiaramente secondo me Cessni ce ne ha tolto uno contro il Sassuolo non due perché non l'avremmo vinta e ce ne ha dato uno contro l'Atalanta quindi al momento è in pari scusa parla ancora un secondo Andrea 1 2 3 3 2 1 e allora sei tu sei tu Andrea che è un audio che un pochettino gracchia non so cosa fare un mini mini ecco gracchiato mi approfitto allora per salutarvi perché vado a fare il video dice il tuo migliore e il tuo peggiore ieri allora migliore della partita Locatelli perché ha fatto di tutto di più e migliore in generale della fase McKennie nettamente proprio ma anche se dal campo lo vedi che gioca per due tant'è vero che ha tolto il posto a UEA e non credo che lo metterà più a centrocampo finché continua a giocare lì sulla fascia così perché fa esattamente quello che vuole Allegri fa le due fasi le fa bene non sbaglia mai un cacchio e se lo sbaglia lo va a recuperare c'ha una testa pazzesca in questo momento meccanica e quello che gli ha mancato c'ha più testa che pancia invece in altri momenti ha avuto più pancia che testa e il peggiore di ieri qualcuno ha scritto Nicolussi Nicolussi Carini allora io lo dico con no lo dico con il cuore vabbè rabbio dai rabbio è stato il peggiorino assoluto però quello che mi ha fatto più male ieri è stato Fagioli perché in queste partite qua io vorrei vedere Fagioli che esce insegna calcio al mondo e invece è di nuovo però questo dispositivo Andrea Sarupi ti è piaciuto il dibattito oppure no? insomma quando si urla sempre poco poi soprattutto perché mi sembra che Claudio non abbia capito quello che diceva Luca invece Luca era stato molto chiaro no però secondo me voglio rinfocolare tutto una cosa è vero che i bordocampisti da ZON ora voglio rinfocolare casino dicono sempre o Landucci o Allegri o chi per loro furiosi urlano mentre tutti vanno indietro questo devo dirlo poi io per primo devo dire ho detto ieri anche a Pressing alla fine ho detto ragazzi l'ho detto pure prima se sto negli altri tre quarti e la ripasso al portiere 50 volte non sarà neanche io penso solo un'idea del singolo giocatore cioè in qualche modo devi trovare una psicologia per dare più sicurezza alla squadra qualcosa deve succedere se no al di là di chi è la colpa perché non è possibile se è squadra terrorizzata di fare un dribbling di fare un tiro dal fuori l'ho detto pure Allegri di fare un non lo so cioè un'idea un po' originale un po' di coraggio quindi insomma va bene Andrea Sarubi ciao grazie Andrea ciao Andrea ciao vai Luca vai con la seconda pagella Gatti 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 le pagelle di Mr. Gatta non poteva mancare Gatti ovviamente voto 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 a Gatti ci siamo ragazzi vediamo se siete d'accordo o no sei con Allegri Furioso nel finale perché lui praticamente va a lungo su Baccar la palla attraversa il corpo di Gatti e si crea un pericolo incredibile con Cup Miners fin lì a me era piaciuto Gatti anche perché era una gara molto delicata per lui questo è il voto di Mr. Gatta sei sì però io da Gatta ti posso dire io mi aspetto no sei e mezzo sei cinque e mezzo allora le faceva le pagelle le facevamo non so le avremmo fatte noi così sei sei meno sei più io voglio che mi faccia gridare pure lui voglio un quattro un nove voglio cose così a me sei sei meno da quattro come ha detto Momblano se non fosse stata per quella cosa lì secondo me gli davi anche il mezzo punto anche perché lo vedo mentalmente forte questo giocatore poi fa ancora tanti errori nonostante esatto esatto questo secondo me va premiato bisogna ricordare Sassuolo a nostro piacimento va ricordato anche poi quello che può scatenare in un giocatore giovane cioè ha ribattuto tantissimo che ha la sua ventisettesima ventottesima partita in Serie A quindi diciamolo sottolineiamolo è giusto anche poi trarre le cose positive Claudio voto a Gatti non è sufficiente per quell'indecisione purtroppo nel finale che poteva costare veramente cala quando fa andare via il giocatore della Taranto sulla linea di fondo per cui cinque e mezzi direi Cobb Miners quella palla la sbagliano una volta su cinque secondo me quel tiro là da dieci metri se non abbiamo preso golli da Cobb Miners vinciando Scudetto allora rinnovato il pinturicchio lo salutiamo proprio in questo momento Lecceis 34 mesi mesiversario con Salandini Sabatini Zuliani che zittisce peggiori così non poteva andare Teddy Pick è una meraviglia esatto why so tilted quattro mesi con questo puntatone ci fa piacere c'è un nuovo follower Giuseppe Giuseppe ma ti ho detto proprio stai zitto violentemente tre volte ma tre volte per rimarcarlo stai fermo stai zitto stai fermo no però è perché è perché avevi in mente e non volevi perdere la cosa che avevi in mente volevi dirla subito puntate in dimenticato scusa tre volte non una ci sono anche tanti nuovi abbonati eh caro Zampini ci fa piacere eh la vedo vedo anche numericamente un sacco no ragazzi perché dovete partecipare oggi 38 minuti ci rilassiamo prendiamo un tè alle 18 sì però queste pagelle posso dire forma una camonita non è frega niente nessuno delle pagelle questa è la verità Bremer Bremer dai facciamo in fretta facciamo in fretta facciamo in fretta sei e mezzo secondo mister gatta sei e mezzo a Bremer Bremer questo fa discutere tanti hanno detto male tanti hanno detto bene è perché è stata qualche sbavatura di Bremer Bremer 3 dice Danilo S Joshua 6 Dani Alex 7 Claudio che voto no però Bremer è vero che non ha avuto non c'entra avanti il ruolo davanti ma ha avuto de che telare però sotto certi aspetti è anche peggio perché ti dà pochi pochi punti di riferimento e Bremer invece un marcatore secco sull'uomo secondo me sei e mezzo dovrebbe essere accaduta molto bene cioè ieri comunque era ieri sì no sabb quando è che abbiamo giocato? ieri pochi ore fa ieri ho fatto un errore grosso alla fine che poteva costare la sconfitta vai 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 Danilo 6 andiamo oltre dai di gatta però ora ora lo cazzo Danilo 6 cioè comunque mi ha svelato di essersi addormentato per la prima volta nella storia durante una partita del Juve al ventesimo poi dice ero anche provato no ero anche provato da una giornata anche complicata mi ha anche raccontato insomma un po' la cosa e mi dice però non mi era mai successo al ventesimo poi infatti ho detto scusa come fai a fare le pagelle se ti sei addormentato no dice ma al venticinquesimo è stato svegliato dal cane non lo so dal venti vai no allora abbiamo McKinney andiamo in ordine andiamo in ordine con Weston McKinney ah c'è attenzione mettiamo almeno una musichetta nell'attesa non so perché è una roba c'è un ritmo questa forma 6 6 no basta non le posso più delle pagelle di gatta già ragazzi non le posso sinceramente nonostante l'impegno profuso no glielo dodo ma ieri a Stagia McKinney perché nella prima parte secondo me si è fatto meglio nella seconda l'ho visto troppo a Ruffone ha sofferto troppo Ruzzeri sulla faccia no no ragazzi io ho ancora 5 minuti se volete un paio di insulti vi rilancio vai no dici Claudio facciamo così Claudio dici o facciamo a volo ste pagelle Locatelli Locatelli MVP secondo Gatta dai via ecco che allora si è proprio addormentato no sto scherzando mi è piaciuto ha detto di giocatore quello che mi è piaciuto di più migliore puntore della partita alla fine Chiesa è il migliore per me Locatelli io sono d'accordo con Gatta a me Locatelli è piaciuto più tra Locatelli e Chiesa nonostante Chiesa è l'unico che poi riesce a creare qualcosa di pericoloso però Locatelli alla fine ha scremato bene la difesa a livello di impostazione l'ho visto migliorato rispetto cioè tu dici che ha tenuto bene i palloni all'indietro che gli arrivavano esatto no ha fatto bene le chiusure qualche buona giocata anche il tipo come ha detto lo stesso Allegri ha chiesto di rimanere più dietro rabbio 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 di cui ha parlato anche Massimiliano Allegri dopo gara arriverà il vero rabbio condizionato da un'estate anche in particolare è stata tua preparazione non è qualche problema però lui è un motore è un motore di grossa cilindrata voto 5 e mezzo no basta 4 per essere generosi 4 per essere generosi no per la generosi c'è no no è pazza lo scherziamo è pazza no vabbè Luca siamo onesti cioè rabbio e poi tu mi sottolini la preparazione no 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 tutto quello no 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 ma nel senso ci sto cioè nel senso la posso condividere l'ha anche fatto presente ieri Allegri ma l'aveva già fatto presente in un'altra conferenza stampa però dare a lui 5 e mezzo no e allora Meccani dobbiamo alzare il vuoto a sto punto cioè vuoi fare Meccani 4 e mezzo tanto rabbio in diffida piglio al giallo col torre squalificato con il Milan non c'è problema esatto Joao Cambiaso Joao Cambiaso no deve tornare all'inizio ce l'ha illuminato proprio Cambiaso deve Cambiaso ragazzi deve ricarburare 4 e mezzo ma facciamole fare a casa le pagelle allora ma fare a casa ma questi sono numeri no 5 5 capisco che ancora deve eh c'aveva illuso ma non puoi no 4 ma in subampia ampiamente deludente direi che riassunto un po' di tutti guarda Allegri molto da Allegri ma non mancava fagioli chiesa e lei scusa che chi manca manca fagioli sei ma la passiamo lo passiamo fagioli via allora passiamo a Chiesa Ken e poi è subentrato Costic Chiesa Chiesa 6 e mezzo secondo Mr. Gatta ci può stare giusto un po' un po' a testa bassa così però ragazzi che gamba che scosse che scosse che ti dà ogni tanto Chiesa veramente poi la scelta per me a volte deve ancora crescere in questo ne azzeccare la scelta alzare la testa insomma però insomma avercene allora Claudio prima di salutarci voto a Ken allora voto a Ken non lo so se deve guardare come ha combattuto da solo contro tutti c'è un'azione in cui le tue gli vanno addosso in tre potrei dargli la sufficienza però però non gliela do gli do 5 e mezzo perché era la sua occasione di fare la prima punta in una partita importante da titolare e non l'ha sfruttata alla fine mister Gatta va con un 4 qua lo ritrovo un po' mister Gatta però veramente non esageriamo ha provato a tenere qualche pallone cioè ora non era una partita facilissima ha avuto anche un'occasione poi devo dire che la difesa dell'Atalanta l'ha messo abbastanza alla prova sì era spesso solo contro due o tre sempre va doppio a volte anche in tre dai adesso 4 siamo un po' troppo allora subentrati direi ha dato le pagelle il voto anche a Kostic ha dato il voto a Kostic che era incavolato Kostic perché non crossa più per esempio chi è che glielo diete è perché la deve passare indietro Claudio o fa una o fa l'altra Kostic 4 4 bravo quindi ti stai dicendo che l'anno scorso con lo stesso allenatore ha fatto 12 arsis quest'anno lo stesso allenatore gli ha detto di passare si è risvegliato che di usare la testa gatta si è risvegliato ma tu Kostic brevemente per capire anche con voi io non ho capito se in una fase di appannamento rispetto all'anno scorso perché ha fatto veramente diversi cross è stato un giocatore per noi importante a parte la fase finale o non è solo una questione di condizione fisica è legata anche al mercato che era sul mercato non si è seguito la fiducia non lo so chiedo a voi perché non l'ho capita non la so ancora contestualizzare la sua situazione no c'è anche aspetta evitiamo Rugani evitiamo il Diz tanto avrà dato 6 6 dai c'è l'ingresso di Miretti c'è l'ingresso di Miretti ma chi se ne frega dai andiamo da Mr. Allegri voto a Mr. Allegri quanto tanto ha dato 6 a tutti avrà dato dai 6 a Miretti guarda che se attacchi i Miretti ce n'è anche per te sui social ma sì dai vabbè però movimenta questi ultimi due minuti parliamo di Moviola dai parliamo di Moviola dai Allegri 5 e 5 dai parliamo di Moviola questa espulsione di Acervi sparita dalle Moviole a me appresti che io c'ero e hanno detto che quasi non era neanche fallo cioè che non lo vedeva neanche ah no perché eravamo 0 a 0 a Salerno nella partita a me hanno detto così io non lo so io ho detto che no io ho detto magari non è grave da rosso ho detto però va col braccio per insomma cioè un giocatore va contro l'avversario lo spinge via con la gomito e non è rosso è interessante no? altre tue osservazioni sulla Moviola? no era 0 a 0 nel tempo non era 4 a 0 finale era 0 a 0 nel primo tempo però curiosità Claudio l'ultimissima tu sul discorso tifo ti ho sentito veramente come ti collo? bene col derby tifano a fasi alterni come la squadra col derby tifano ma tu cosa sei? sei di quelli che dicono fate tifare questi gruppi organizzati trovate il modo o di quelli che dicono alla fine che si decide la tifano? io sono di quelli che dicono che evidentemente è successa una cosa talmente grave e importante perché sono finiti in tribunale per cui la cosa non è sicuramente semplice a differenza delle altre piazze delle altre squadre dove nessuno è finito in tribunale perché non ha avuto una procura che è indagato sul tifo organizzato e sulla società quindi quando prendi quella strada lì è chiaro che è un uno contro l'altro per ricomporla sinceramente ti dico non lo so come si possa fare non lo so sicuramente non lo so Claudio Zuliani grazie mille lo saluti Luca o no? lo saluti o sei finuto? poi insomma ha anche ribadito meglio ciò che intendeva su questa sorta di shitstorm pazzesca che ne è nata sui social ci ha fatto piacere non gli aveva aveva sbagliato a non chiedergli se voleva venire a replicare però l'ha fatto in sua iniziativa quindi ben venga grazie sono abbastanza alterato perché io fino a 5 minuti fa non lo sapevo vivevo meglio invece voi mi avete portato alla conoscenza di questo casino che invece se non lo sai ma è Massimo che te l'ha detto ma scusa ma tu Claudio ma tu i social non ho capito sei l'unico che non guarda i soci sei sui social se non ci fossi direi sei taggato mille volte con gente che dice povero Nicolussi povero Nicolussi che fai mezzugliani attacca Nicolussi quell'altro e cose così mentre io ho capito che tu a Nicolussi invece vuoi bene e l'hai citato come esempio di un'altra ma io non passo la giornata anche Nicolussi no dico è arrivata Nicolussi ma a te non era arrivata è arrivata Nicolussi che io l'ho insultato che non è vero ha fatto il giro del mondo però credo che abbia abbia poi insomma capito io vi dico la verità fino a due ore fa manda un messaggio guarda che c'è un casino parla in camera a Nicolussi manda un messaggio a Hans ma penso che Nicolussi sia più intelligente di quelli che scrivono delle scenenze non penso che abbia bisogno di messaggi Claudio Zuliani grazie mille ciao Claudio grazie alla prossima ciao grazie mille grazie mille a Claudio allora ragazzi andiamo un po' verso la chiusura io devo salutare tutti tutti sono a essere sei di pomeriggio quindi a Katia Katia ci aveva fatto una domanda sì nessuno le ha risposto sul Costi magari finiscono poi lo rispondi tu Luca qual'era la domanda Katia? no io ho chiesto se Costi c'è solamente un momento di appannamento magari una mancata ancora condizione atletica ottimale o c'è anche di mezzo l'essersi sentito un po' scaricato dalla società qualora ci fosse poi stata l'occasione per poterlo vendere no io credo credo che non sia più cioè i giocatori una volta sai ci puoi restare lì poi Allegri ha dimostrato mettendolo subito in campo cioè nel senso chiuso il mercato lui ha fatto due partite a titolare quindi Allegri gli ha dimostrato che cosa che poteva essere una situazione di mercato ma che questo non spostava nel giudizio che ha di lui anche se quando Allegri lo descrive ai microfoni lo descrive veramente un giocatore limitato cioè no e questo è un po' devo dire non è mi dispiace perché cioè ci sta che sia un giocatore che ha delle caratteristiche molto precise che noi abbiamo amplificato secondo me gli abbiamo messo un po' in imbuto però con le cose sappiamo che le può fare bene dico che che in questo momento Kostic secondo me è un po' castrato dal fatto che oggi i quinti devono fare tanta fase difensiva persino più dell'anno scorso per certi versi per come era per come era Kostic che aveva libertà di attaccare perché Chiesa non giocava allargandosi di là non c'era il problema del pestarsi i piedi con Chiesa se non alcune volte adesso Chiesa gioca in mezzo ma se guardate JB Zona noterete che Chiesa ha giocato in mezzo i primi dieci minuti poi è andato là allargarsi a sinistra Kostic non c'era quando è entrato ha fatto il quinto se saliva cozzava in Chiesa secondo me c'è ancora questo tourbillon tattico per cui lui paradossalmente deve giocare in maniera più smart ma questa cosa c'era più healing di lui cioè se devo giocare un po' improvvisando lo spartito perché dipendo da Chiesa healing è potenzialmente più abile di Kostic però io sono sicuro che tornerà a fare i suoi assist è ovvio che ieri l'ordine era non crossate che forse io dico Ken forse l'avrebbe toccato qualche palla in più crossando in area di rigore dell'Atalanta Ken zero tocchi ma sulla tre quarti ve l'ho detto la Juve non va verso spesso non va verso la porta ma torna indietro no ragazzi non riaprire no no però ribadiscito l'ho detto anche prima ma non riaprire questo tema no no però è vero Luca che tu giustamente non le guardi su Dazon e le fai le cronache quindi in diretta ti dico è là molto spesso in queste giornate non so se ieri o l'altra volta viene riferito o di Alleglio di Landucci furiosi che dicono perché la squadra si abbassa poi sono d'accordo con te su quell'altra cosa che hai detto se non ti seguono forse è peggio se in tre anni non sei riuscito a trasmettere l'idea che non bisogna abbassarsi è peggio io non ascolto le cronache di Dazon non so cosa dicono i bordocampisti occhio se mi dite che si arrabbiano perché la squadra si abbassa faccio un'osservazione che non c'entra nulla col passare l'anno indietro sono due cose no 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 lo dico perché perché se mi dite che Alleglio Landucci si arrabbiano che la squadra si abbassa riprendete J.B. Zona stasera ve lo ridiamo anche su YouTube abbiamo visto che la squadra si abbassa ed è inspiegabile fino a come arriva ad abbassarsi abbiamo fatto vedere dei slide incredibili e siamo convinti sia io che il mister Zendola che non possa essere pensata davvero con undici in area con la palla che è quindici metri o venti metri più indietro e già tutti a fare the wall questo ci sta non ha senso e un conto diverso è che la gestione del pallone passi attraverso i retropassaggi retropassaggi vuol dire andare anche da Bremer andare da Gatti ti costringe poi a lanciare questa cosa la squadra la fa perché oggi è piuttosto che prendersi un rischio giochiamo sul sicuro se l'avversario ha messo bene in campo sai qual è la giocata più sicura? Darla a quello che c'è dietro di te e questo è quello che siamo un po' costretti a fare in questo momento però è figlio anche secondo me dell'ordine tattico che viene impresso in questo momento dopo quello che è successo a Reggio Emilia l'abbassarsi troppo è un altro discorso e faremo una puntata ad hoc solo se viene Claudio Zuliani però eh solo se viene dai puntata calda ti abbiamo voluto far sentire a casa Katia perché so che tu vai negli spazi per recuperare il clima esatto so che ami gli spazi più incasinati più dove si combatte però un attimo devo dire che ho un po' temuto ti dico la verità c'è stato un momento in cui c'era l'aria se beccamo fuori dal locale no? a Roma ragazzi noi stiamo preparando idealmente spero concretamente uno speciale per il 10 il 10 ottobre speciale in live fiume racconteremo vivremo eccetera ci sono tante no non vengo Toti Music non vengo scusa tante leggende a Torino e noi le racconteremo anche con le immagini dall'evento quindi state con noi che sarà una giornata evento vogliamo proprio confezionare una cosa speciale devo andare Massimo tutti dobbiamo andare salutiamo intanto ti aspettiamo presto assolutamente sì ciao Luca allora aspettate salutiamo Sandro Sabatini Stefano Sanandini prima mezz'ora con noi consiglio di recuperarla perché? perché non è prevenuto è un dibattito loro sostengono alcune cose noi poniamo domande per il contraddittorio credo che sia interessante poi sono intervenuti su loro candidature ne siamo stati felici Claudio Zuliani che doveva rispondere anche a quello che gli è stato riportato che si diceva su di lui su quel video che abbiamo messo su Pioli e tutto il resto e Andrea Sarubbi che è stato lo stato due volte non ci ha raccontato proprio una Juve di scelte sagge grazie mille Katia Nicotra grazie per essere tornata grazie a te Massimo grazie Luca noi ci vediamo 18.38 poi stasera Juventibò poi domani alle 2 sempre qui a tutte le ore vincolo abbonati ciao a tutti forza Juve ciao ragazzi protesta